Allora, eccomi qua Allora, ciao a tutti e a tutte bentornati e bentornati in un nuovo vlog oggi ho voluto farvi salutare due dei miei cari amici salutate, per favore ok, scusate l'imbarazzo perché ah ok, beh allora non sei l'unico allora vi volevo farvi vedere il mio paradiso cioè la mia nuova casa che la sestima è probabilmente che registro questa è la casa di un mio amico che si chiama Good of Shadow che è con lui che vivo adesso mi sono fatta questa casetta anzi, fatta perché in realtà mi ha aiutato lui mi sono fatta la piscinetta qua dove puoi camminare sull'acqua che è bello che l'adoro, che me la sono costruita io da sola che l'adoro io adesso poi mi sono fatta l'ascensore qua si sale e vi faccio vedere qua ho tutta la pietra nera e cose del genere che ho raccolto nel nether e qua ci sono, aspettate che non mi ricordo come cavolo si chiamano questi cosi si chiamano i sensori dello Schulte che ho trovato nella caverna dove c'era lo come si chiamava più? lo warden che è il terzo che... è warden warden si dice, ok poi ho gli standardi dei pillager che ne ho un quintale probabilmente e poi qua c'ho il... diciamo praticamente la roba per incantare anche se è vero che di cantamenti ne ho già abbastanza ma non si sa mai poi il tetto mi ha aiutato a fare il mio amico che abito con lui accanto che mi sopporta bene che abbiamo dovuto fare un trasloco per tutto il giorno per costruire sta a casa e ok nel frattempo parla e allora io qua ho messo i pesci tropicali e accanto qua ci sono gli azzolot si e gli altri sono tutti morti se ve lo chiedete è una lunga storia e lasciamo stare vabbè poi qua ci sono le casse che ho disposto e si sono usciti tutti perfetto sono rimasta da sola perfetto che bello e oltre a quello io sono... adesso ho disposto tutto poi qua c'è il sensore per lo... per il warden warden si dice sì ok oltre a quello poi questo è il piano di mezzo e qua c'è il mio letto sì perché viola mi piaceva non lo so vabbè oltre a quello niente poi vi faccio vedere di nuovo sotto che la mia parte preferita è la piscina perché dato che me la sono costruita io posso farci quello che voglio e per farvelo breve e poi là c'è il... il beacon del mio amico che poi mi costruirò anch'io però non so come si faccia vabbè pazienza e oltre a quello niente e poi questa attualmente la struttura c'è casa mia cioè siamo un ufo da quanto è fatta bene e oltre a quello e poi cercherò di abbellire un po' qua intorno per vedere cosa posso fare e oltre a quello niente ciò eh sì aspettate che si riesco un attimo a rimettere a posto qui aspettate che ho fatto un marasma come al solito perché ne faccio tanti ok questo qua questo qua ecco qui aspettate un secondo adesso vado a dormire eeeh ok si mette a FK per andare a dormire se non volete andare direttamente nel letto oltre a quello nulla adesso io vi saluto e se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate like iscrivetevi al canale e questo era il mio speciale 100 iscritti sì siamo arrivati a 100 iscritti oggi i miei complimenti Federica bravissima eh mi faccio anche i complimenti da sola e questa per farvi capire è questa la mia nuova skin sì e vi chiederete chi sono mi chiamo ricena Federica non mi chiedere mi piaceva volevo cambiare nome e oltre a quello niente adesso mi vado a fare una bella nuotata e noi ci vediamo domani con un nuissimo blog o avventura ciao ciao